Buongiorno, benvenuti al webinar dedicato al piano triennale, vedo che vi state collegando, siete già tantissimi. Oggi presenteremo il piano triennale per l'informatica nell'APA e una roadmap per orientarsi. Avremo con noi Rosa Maria Barrese e Federica Ciampa di Agit che si occupano proprio del servizio redazione piano triennale. Quindi abbiamo appunto degli ospiti di riguardo e speriamo riescano appunto a gettare luce su quello che è il percorso di trasformazione digitale che si chiede alle pubbliche amministrazioni e nello stesso tempo abbiamo invitato due testimonianze che ci parleranno appunto della loro esperienza di attuazione del piano triennale. Antonello Pellegrino della Regione Autonoma della Sardegna e della Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione e Nello Iacono di Roma Capitale che è il capo della Segreteria Tecnica dell'Assessorato Roma Semplice. Quindi abbiamo un programma molto fitto oggi e vi ricordo che questo webinar si introduce all'interno di un ciclo di webinar che stiamo organizzando da novembre ad oggi dedicato all'innovazione digitale che appunto ha l'obiettivo di accompagnare le pubbliche amministrazioni e agevolare il lavoro appunto che hanno da fare che è molto per avviare il percorso di trasformazione digitale. I nostri riferimenti appunto sono diciamo il CAD, il riferimento normativo e il piano triennale che un po' ci aiuta nell'attuazione. Quindi oggi ci concentreremo proprio su questo, su disegnare questo percorso di trasformazione. Allora, questi sono i webinar appunto, prendo un po' di tempo, vedo che già siete tanti, 252, ma abbiamo ricevuto appunto molte adesioni, più di 800, circa 850. Quindi attendiamo, prendiamo qualche minuto per appunto accogliere anche altri partecipanti. E nel frattempo su questo slide, cliccando sul link su questo slide, potete vedere tutti i webinar che abbiamo realizzato finora e accedere anche ai materiali condivisi dai docenti e alle relative registrazioni dei webinar. Quindi se vi siete persi qualche webinar che vi interessa, potete assolutamente accedervi attraverso questi link. Appunto, come vedete abbiamo parlato dei ruoli chiavi per la digitalizzazione, dello stato di digitalizzazione dell'APA, proprio un webinar dedicato a Paolo Coppola che ha presentato i risultati della commissione d'inchiesta sulla digitalizzazione. E questi ultimi webinar che stiamo appunto svolgendo in quest'ultimo periodo, appunto, si sono focalizzati in particolare sul piano triennale. E oggi infatti sarà questo, diciamo, il focus della giornata. Vi ricordo che in chat potete porre le domande ai relatori, quindi se avete domande scrivetele in chat, noi faremo una moderazione delle domande che arriveranno e cercheremo di rispondere a quante più domande possibili. E la registrazione e i materiali verranno pubblicati su eventi IPA nel pomeriggio. Quindi potrete ritrovare tutto se vi perdete qualche pezzo, insomma potrete nuovamente visionarlo. Quindi sulla pagina di eventi IPA dedicata all'evento, qua pubblicheremo sia registrazione che materiali. Allora a questo punto, visto che il programma è molto fitto, darei subito la parola a Salvatore Marras, dirigente dell'area Innovazione Digitale di Formedspia, per introdurre questo webinar e vi auguro un punto buona fruizione a tutti. Grazie. Grazie Michela e buongiorno a tutti. Probabilmente questo webinar l'avremmo dovuto programmare all'inizio di questa serie che prima Michela vi ha anticipato. Oppure alla fine, perché comunque è una materia in evoluzione, Agi sta già iniziando a lavorare sul nuovo triennale, perché ovviamente questo è il triennale nato nello scorso anno. Però diciamo che questo al fine è il momento giusto, perché sono state introdotte tutta una serie di tematiche specifiche da Speed a Pago PA e può essere anche il momento di fare un quadro generale. Maria Rosa Barrese farà anche un po' un racconto della genesi, di come è nato il triennale, perché non dobbiamo dimenticare che tutte queste azioni sono da ricollegare all'agenda digitale europea 2020. Quindi le azioni che l'Italia ha intrapreso in questi anni sono finalizzate a portare il nostro Paese all'interno di una strategia più ampia che quella europea. Prima di dare la parola a Maria Rosa, volevo segnalarvi una cosa. Siccome questa purtroppo è una materia nella quale si sono succeduti diversi documenti, non c'è un unico documento agenda digitale italiana, voglio segnalarvi il fatto che è stato fatto un lavoro importantissimo questa legislatura che è quella della Commissione parlamentare d'inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni. Il lavoro di questa Commissione è riportato in questi atti parlamentari, tra l'altro è anche stato trasferito dentro Read the Docs, quindi è leggibile sia scaricando il PDF sia in maniera interattiva, ma soprattutto a me è stato utilissimo per avere in un unico documento un quadro molto ampio e generale. Vi leggo giusto l'inizio dell'indice che a parte l'attività fatta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta del quale era responsabile Paolo Coppola, ci sono tutti i passaggi che vanno dal contesto normativo europeo, l'agenda digitale europea, il contesto normativo nazionale, l'agenda digitale italiana, gli obiettivi dell'Agenzia per l'Italia digitale, le tappe salienti e anche cosa importante, il posizionamento digitale rispetto agli indicatori desi. È un documento corposo, quindi può essere usato sia come libro di testo universitario, ma anche come strumento di consultazione per capire sui singoli punti cosa sta accadendo, quindi lo suggerisco come un vero strumento di lavoro. A parte questo poi nel sito della Commissione ci sono le registrazioni dei vari interventi, lo stesso Antonello Pellegrino è stato uno dei dirigenti pubblici intervistati, quindi è anche ricco dal punto di vista della documentazione di quello che accade nella pubblica amministrazione. Siamo alle 12.08, mi sembra che abbiamo comunque ancora partecipanti che stanno arrivando, però darei la parola a Maria Rosa Barrese per introdurre questi temi e mi ricordo che alla fine degli interventi di Barrese e Ciampa potremmo sottoporre alcune delle domande che farete nella chat, quindi se avete quesiti siete invitati a farli. Prego Rosa. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sono Rosa Barrese, lavoro in Agile insieme con Federica Ciampa che parlerà dopo di me e mi occupo proprio della redazione del piano triennale nella pubblica amministrazione. Il tema che oggi affrontiamo, voi conoscete sicuramente il piano triennale, noi però vorremmo fare una prima introduzione, quindi vorremmo intanto attenerci a dei concetti e a dei principi di base, poi eventualmente già in parte avete approfondito, ma potremmo trovare anche altre occasioni anche sulla base delle vostre interazioni, delle vostre domande per andare ad ulteriori approfondimenti. Diceva giustamente Salvatore che uno dei temi, per noi l'importante era cercare di capire come è nata, qual è stata la genesi del piano triennale e quindi come vedete io partirei da un quadro di contesto che è quello dell'agenda digitale italiana. In realtà abbiamo oltre al tema dell'agenda digitale italiana, abbiamo altri due documenti che sono per noi importanti come riferimento, cioè la strategia per la crescita digitale che si trova sul sito dell'agenzia per l'Italia digitale, quindi basta indicare strategia crescita digitale e potete scaricarlo e poi il piano triennale per l'informatica nella pubblica dell'amministrazione. Quindi partiamo dall'inizio, la strategia Europa 2020, strategia europea, è stata creata, è stata definita per superare la crisi finanziaria che stava attraversando l'Europa e per rilanciare l'economia con alcuni punti chiave, con alcune parole chiave che erano la crescita intelligente, sostenibile, solidale. Per una crescita intelligente, sostenibile, solidale e per raggiungere quegli obiettivi che sono occupazione, istruzione, innovazione, il digitale è lo strumento principe. Quindi dalla strategia Europa 2020 è nata la cosiddetta agenda digitale europea. L'agenda digitale europea oggi non si chiama, lo vedremo, non si chiama più agenda digitale europea, comunque era nata come un programma per stimolare investimenti sul digitale, essendo il digitale la precondizione proprio per la crescita dell'economia mondiale. In Italia abbiamo ripreso quanto indicato nell'agenda digitale europea e abbiamo identificato una serie di interventi specifici per il nostro Paese e questi interventi sono stati poi definiti all'interno del cosiddetto decreto decreto crescita 2.0. Nasceva nel 2012 anche l'agenzia per l'Italia digitale. Sapete l'agenzia digitale ha avuto in realtà un'evoluzione dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, poi è diventata CNIPA, poi di IGPA e infine l'agenzia per l'Italia digitale. Nel 2012 sono state anche indicate col decreto legge 179-2012 anche quelle che sono le funzioni dell'agenzia per l'Italia digitale e la funzione principe è proprio quella di realizzare l'agenda digitale italiana. Ormai non si trova più questo disegno che vedete sulla sinistra, che io lo trovo abbastanza interessante. Come era strutturata l'agenda digitale allora nel 2012? Ecco, come vedete c'erano dei filoni, dei cosiddetti pillars sui quali investire ed erano le infrastrutture, la sicurezza, l'e-government, la ricerca e l'innovazione, le smart cities, le competenze digitali e l'e-commerce. Tutti questi concetti tranne l'e-commerce sono stati ripresi in questo documento che è la strategia per la crescita digitale 2014-2020. Questo documento ha avuto anche un'evoluzione, è stato pubblicato in un paio di edizioni e come vi dicevo lo trovate sul sito dell'agenzia per l'Italia digitale. Qual è stato quindi il percorso? La strategia per la crescita digitale, il documento che avete visto, delinea una strategia. Questa strategia è realizzata attraverso un modello di riferimento che è quello che abbiamo chiamato il modello strategico dell'informatica nella pubblica amministrazione e che è rappresentato anche nel piano triennale che tra un po' vedremo. Il piano triennale si rifà a questo modello e individua gli obiettivi da raggiungere e una programmazione nazionale poi stabilisce quali sono le azioni da compiere per realizzare tali obiettivi. Il documento strategia per la crescita digitale, diciamo, è stato approvato dalla Commissione europea. È stato approvato dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di quella che era, come vi dicevo, l'agenda europea digitale e che adesso si chiama Digital Single Market. Che cosa dice? Qual è il principio di fondo? La trasformazione digitale è la chiave per la crescita del Paese. Per che il Paese cresca, perché ci sia uno sviluppo nel senso digitale della coscienza dei cittadini e delle imprese, bisogna puntare sulle leve pubbliche e cioè la pubblica amministrazione può essere la leva per la trasformazione digitale del Paese. Quindi quali sono gli obiettivi strategici di questo documento, della strategia per la crescita digitale? Intervenire sulla pubblica amministrazione, quindi intervenire lavorando con la pubblica amministrazione, formando il personale della pubblica amministrazione. Salto un attimo lo switch off di cui parlo tra un momento. Sviluppare le competenze digitali all'interno delle imprese, diffondere la cultura digitale tra i cittadini, operare degli switch off sull'opzione analogica e con switch off si intende quel concetto per cui si spegne l'opzione analogica e si passa direttamente all'opzione digitale. Probabilmente voi, un esempio che molti di voi forse conosceranno è quello dell'iscrizione online dei propri figli alla scuola pubblica. Ecco, quell'operazione è stata un'operazione per i cittadini piuttosto faticosa, piuttosto impegnativa, ci sono state anche critiche, anche in qualche modo giustificate, però ormai questa decisione un po' forte ha permesso ormai di utilizzare l'opzione digitale come l'unica opzione e in qualche modo questa forzatura porta ad una maturazione della consapevolezza sul digitale nei cittadini, forzando però i cittadini si lavorano e imparano a lavorare sul digitale. Un ultimo obiettivo naturalmente è quello che ha a che fare con gli aspetti finanziari e cioè coordinare in maniera unitaria tutta la programmazione, gli investimenti pubblici in tema di digitale, in tema di informatica in modo da orientarsi su delle scelte che non siano dispersive e che quindi non facciano esperte questi investimenti ma che portino su dei filoni progettuali che vadano verso un'unica direzione. Quali sono le azioni per la crescita digitale che sono indicate nel documento strategia per la crescita digitale ma anche vedremo nel piano triennale? Sono delle azioni cosiddette infrastrutturali trasversali, delle azioni che hanno a che fare con le cosiddette piattaforme abilitanti e dei programmi di accelerazione. Questa è una definizione generica, adesso vediamo di che cosa si tratta. Per quello che riguarda le azioni infrastrutturali trasversali si tratta di lavorare sui temi che vedete, cioè lavorare sul sistema pubblico di connettività e di nuovo c'è che si sta lavorando affinché degli edifici pubblici venga messo a disposizione un wifi gratuito. Si lavora in tema di sicurezza digitale per la pubblica amministrazione e poi anche in tema di razionalizzazione del patrimonio ICT con una razionalizzazione proprio sui cosiddetti data center. Come sapete forse alcuni di voi sono stati coinvolti in una prima fase di un censimento che stiamo realizzando sul patrimonio ICT della pubblica amministrazione sui data center. Come sapete in Italia ci sono migliaia di data center piccoli e grandi, quello che danno anche problemi ovviamente di sicurezza dei dati, una serie di spesa, quindi la nostra attività sarà proprio finalizzata a razionalizzare per l'appunto questo patrimonio. Io credo che con i colleghi in futuro potremo anche approfondire questo tema che è di particolare interesse, particolarmente sensibile, come dicevo sia sul tema della spesa sia sul tema dell'impatto che ha all'interno soprattutto delle pubbliche amministrazioni. Le piattaforme abilitanti, come vedete sono quelle piattaforme che offrono una serie di servizi ai cittadini e che qui vedete rappresentati con i loro loghi, per esempio l'anagrafe nazionale della popolazione residente, Pago Pia, il tema dell'e-procurement, scuola digitale, giustizia digitale, il tema degli open data. Anche su questi temi all'interno del piano che sono per l'appunto indicati sulla strategia per la crescita digitale, all'interno del piano triennale vengono date addirittura delle linee di azione, delle indicazioni operative per lo sviluppo e per l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche a tali piattaforme. E poi ci sono dei programmi di accelerazione, dei programmi che aiutano a sviluppare e a promuovere il digitale per i cittadini e le imprese, che sono un progetto che si chiama Italia Login, che ha a che fare con la messa a disposizione di servizi digitali per i cittadini e per le imprese, naturalmente il tema delle competenze digitali, perché la formazione è probabilmente in questo momento uno dei temi più sensibili e più importanti da sviluppare e poi c'è ovviamente anche il tema delle cosiddette smart cities. Dato quel contesto, il piano triennale si è attestato su un modello strategico. che vedete a sinistra nella sua rappresentazione più complessa, a destra in una rappresentazione forse più leggibile, nella quale si vede che l'informatica nella pubblica amministrazione è costituita da ambiti diversi, che sono un ambito che ha a che fare con le infrastrutture fisiche, un ambito che ha a che fare con le infrastrutture immateriali, cioè quelle di cui parlavo prima, un ambito che ha a che fare con gli ecosistemi e un ambito di accesso servizi. Tutti questi ambiti sono collegati da un modello di interoperabilità che permette a ciascuno di questi ambiti di parlare tra loro. Trasversali c'è un tema che ha a che fare con i dati e un tema che ha a che fare con la sicurezza e il tutto di nuovo è controllato, è gestito da una cosa che abbiamo chiamato gestione del cambiamento, di cui voi avete già avuto qualche indicazione. Per esempio quando nel corso del seminario sul responsabile della trasformazione digitale, ecco per esempio uno degli strumenti di gestione del cambiamento è proprio questo, è proprio il ruolo del responsabile della trasformazione digitale che è una figura che deve essere nominata all'interno di ciascuna amministrazione e sulla quale noi puntiamo molto proprio per gestire per l'appunto il cambiamento all'interno delle amministrazioni. Vedete il contesto di riferimento per la realizzazione del piano triennale è stata una legge di stabilità del 2016, la legge di stabilità del 2016, questi indirizzi di cui vi parlavo, cioè la strategia per la crescita digitale e il modello strategico di evoluzione dell'ICT nella pubblica amministrazione. Il piano triennale tiene conto dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni per individuare le strategie e le priorità e poi uno degli output del piano triennale, alcuni output del piano triennale saranno un piano delle gare, nel senso di razionalizzare anche le gare che le pubbliche amministrazioni intendono mettere in atto per realizzare e per i propri servizi ai siti, un piano di finanziamenti e poi i piani triennali che ciascuna pubblica amministrazione dovrà realizzare nel tempo che dovranno tener conto anche delle indicazioni strategiche del piano triennale definito da Agid. Arriviamo al piano triennale. Il piano triennale è un documento di indirizzo strategico ed economico che è indirizzato tutta la pubblica amministrazione, guida la trasformazione digitale del paese, cos'è la cosa interessante? Che vuole proporre un modello condiviso per la gestione e l'utilizzo delle tecnologie digitali e come si realizza questa condivisione? Attraverso intanto la predisposizione delle linee operative di sviluppo a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Di nuovo attraverso la... qui c'è scritto definizione del modello... nella slide leggete definizione del modello strategico di evoluzione del sistema informativo. Direi che questo modello è un modello a propria volta in evoluzione, quindi attraverso un adattamento di questo modello proprio all'evoluzione delle tecnologie e un adattamento di questo modello alla realtà delle amministrazioni e poi naturalmente c'è un tema che ha a che fare con gli investimenti con gli investimenti direttamente... gli strumenti finanziari nel settore pubblico. Quindi gli obiettivi sono indirizzare la trasformazione dell'ICT, secondo linea del governo e naturalmente in coerenza con le direttive europee. utilizzare questi investimenti nelle logiche che vengono definite dal piano triennale, individuare laddove possibile dei risparmi che sono previsti nella legge di stabilità del 2006, quindi andando a risparmiare sulla spesa di gestione corrente, mandando ad aumentare gli investimenti sulla... invece gli investimenti in informatica, nell'ICT e poi il fatto di individuare i risparmi, ma aumentare gli investimenti, significa poi sostanzialmente razionalizzare la spesa dell'ICT. Il piano triennale che voi conoscete e che potete vedere... ovviamente avete già scaricato, ha un percorso che è partito tra il 2016 e il 2017. Nella prima edizione, che voi leggete, che è quella 2017-2019, abbiamo... si è trattato di costruire il piano triennale, quindi abbiamo lavorato insieme con le amministrazioni, soprattutto nel 2016-2017 con le amministrazioni pubbliche centrali e abbiamo quindi lavorato a questo... diciamo è un documento che è in evoluzione. Questo documento è in evoluzione anche attraverso il confronto, il confronto successivo con le amministrazioni e anche attraverso, come dire, un feedback, anche, insomma, attraverso una serie di aggiustamenti, nel 2018 vede il suo consolidamento. Noi a settembre 2018 dovremmo avere approvato il piano triennale 2018-2020 da parte di funzione pubblica, quindi il documento che vedrete pubblicato a settembre, che vedrete rilasciato a settembre 2018 sarà un documento ormai consolidato e naturalmente nel 2019 prevediamo che ci sia un completamento delle principali azioni che sono state definite all'interno dell'attuale piano triennale 2017-2019. Vedete chi sono i principali attori? Agid, il team digitale, le amministrazioni centrali e le amministrazioni locali che nel corso di quest'anno abbiamo coinvolto come soggetti aggregatori. Abbiamo coinvolto come soggetti aggregatori soprattutto nella fase di rilevazione della spesa ICT che come vedete è un tema che viene affrontato anche nel piano triennale 2017-2019 e che quest'anno abbiamo affrontato ampliando questa rilevazione. Dallo scorso anno abbiamo lavorato con le pubbliche amministrazioni centrali e quest'anno abbiamo lavorato anche con le regioni, le città metropolitane e i loro comuni capoluogo visti appunto, come dicevo, in veste di soggetti aggregatori. Avete visto che ogni macroambito di quelli rappresentati nel modello strategico è denominato appunto come infrastrutture fisiche, infrastrutture immateriali, ecosistemi, c'è un tema della sicurezza, questi sono i principali componenti e vedete quali sono per noi gli obiettivi strategici. Per gli ecosistemi significa realizzare dei servizi che permettano una più facile interazione con i cittadini, una più facile interazione delle pubbliche amministrazioni con i cittadini attraverso un modello di interoperabilità che permette ai dati delle diverse amministrazioni per l'appunto di interoperare e di poter dare al cittadino un servizio che risponda alle proprie esigenze ma il cittadino non avrà bisogno di vedere cosa c'è dietro e quale percorso c'è dietro di flusso di informazioni e di dati attraverso le amministrazioni proprietarie dei singoli dati. C'è un tema della sicurezza, naturalmente, è un tema della sicurezza e Agile è impegnato nella definizione di profili di sicurezza standard per tutti i data center e ha già pubblicato delle misure minimi di sicurezza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni che sono disponibili sul sito di Agile. Per quello che riguarda le piattaforme abilitanti lo vedremo un attimo, lo vedremo un po' più avanti perché vi dettaglierò quali sono in questo momento le piattaforme abilitanti. Vedo che qualcuno aveva chiesto NoiPA, se NoiPA è una delle piattaforme abilitanti sulle quali puntiamo la nostra attenzione. Quindi tra un attimo approfondiamo anche quello. e poi c'è il tema delle infrastrutture fisiche e gli obiettivi ovviamente sono razionalizzare, come vi avevo già detto e come era già delineato nel documento strategie per la crescita digitale razionalizzare i data center esistenti realizzare un ambiente cloud per l'EPA e poi individuare per l'appunto dei risparmi di spesa derivanti soprattutto dal consolidamento e dalla razionalizzazione dei data center. Tutti questi obiettivi hanno un match con degli obiettivi strategici a livello nazionale e a livello locale e anche sulle imprese. Come vedete, quindi definire una trasformazione digitale dell'EPA attraverso quello che dicevamo un modello condiviso di gestione e utilizzo delle tecnologie informatiche creare delle regole di interoperabilità creare dei modelli di cooperazione a livello nazionale a livello locale intendiamo accompagnare le amministrazioni locali nella realizzazione dei servizi digitali e se possibile organizzare dei servizi digitali secondo degli ecosistemi secondo gli ecosistemi che sono a propria volta creati per rispondere ai bisogni di cittadini e di imprese che naturalmente i privati saranno nel tempo coinvolti nello sviluppo di servizi digitali integrati e interoperabili e naturalmente attraverso questo modello attraverso il piano si intende incentivare il rapporto col mercato creando per l'appunto un pubblico scusate un ponte tra pubblico e privato parlavamo di piattaforme abilitanti le piattaforme abilitanti sono quelle che lo leggete permettono di abilitare lo sviluppo di servizi innovativi e uniformano le modalità di erogazione dei servizi digitali offrono una serie di funzionalità che sono trasversali e riutilizzabili e semplificano soprattutto la progettazione dei servizi riducendo tempi e costi di realizzazione tra le piattaforme abilitanti che tutti voi conoscete c'è la carta di identità elettronica c'è Speed Pago Pia voi avete già io non mi soffermo perché devo andare veloce per dar tempo alla mia collega ma su questi temi avete già credo avuto almeno su parte di questi temi avete incontrato anche i colleghi che hanno sostenuto altri webinar la fatturazione elettronica l'anagraficazione della popolazione residente e naturalmente noi Pia sono importanti due temi ancora sulla strategia operativa e cioè il tema dei servizi digitali che devono essere organizzati tematicamente secondo gli ecosistemi e noi stiamo predisponendo delle linee guida sia per per la realizzazione dei servizi sia per la realizzazione degli ecosistemi queste linee guida saranno disponibili a breve quindi saranno nel giro di un paio di mesi saranno a disposizione delle amministrazioni che vorranno che vorranno aderire a ecosistemi già in progettazione o che vorranno proporre parte di ecosistemi che potranno agganciarsi ad altri ecosistemi e scusate e direi a questo punto io sospendo un attimo il mio ragionamento perché passo la parola a Federica Ciampa la quale con questa sua parte risponde con questo suo intervento risponderà proprio ad alcune delle domande che vedo che vedo sulla chat pubblica raccontando poi come si passa dal piano ai piani triennali e quali sono gli impegni e le tappe per le amministrazioni per ora vi saluto a più tardi Federica dovresti attivare il tuo microfono devi cliccare sull'icona in alto non ti sentiamo pronto? sì ok perfetto adesso scusatemi stavo dicendo buongiorno a tutti io sono Federica Ciampa collaboro con Rosa alla redazione del piano triennale e occupandomi prevalentemente della rilevazione sulla sulla spesa una prima come diceva Rosa come come in quale modo diciamo Agid sta mettendo in campo la strategia di implementazione per passare dal piano triennale ai piani triennali prima di tutto ho una premessa doverosa questa strategia segue la logica a scorrimento prevista per legge dal piano quindi tutto ciò che è la definizione dell'implementazione del piano è una gestione rolling che di anno in anno mette un punto tira una linea su quanto è successo nell'anno passato e a scorrimento guarda verso il triennio successivo per la implementazione del piano e la definizione e esecuzione dei piani triennali da parte delle amministrazioni in prima battuta sono state coinvolte questi soggetti aggregatori come attori principali quindi le amministrazioni centrali tutte le regioni e le città metropolitane questo va visto come un passaggio intermedio di fatto tra una impostazione prevalentemente top down che ha avuto la redazione del piano triennale 2017-2019 per la redazione del quale sono stati coinvolti diciamo in maniera più strutturata e attiva solo le amministrazioni centrali oltre ad Agis e per passare invece a una logica più bottom up diciamo quindi in questo momento in prima battuta le amministrazioni coinvolte sono quelle che vedete però già ci stiamo muovendo verso qualcos'altro e questo intanto era per chiarire una delle domande che ho visto scorrere rispetto a chi fosse tenuto a redigere il piano triennale come scritto nel piano triennale 2017-2019 sono questi i soggetti chiamati a redigere il proprio piano triennale entro la data di dicembre 2018 quali sono gli strumenti diciamo quali sono le direttrici che ho messo in campo Agis per accompagnare questa definizione sostanzialmente sono attività prevalentemente di analisi e sintesi di informazioni e quindi quelle necessarie per la costruzione di baseline di costi ed indicatori di monitoraggio nonché quelli necessarie per supportare le amministrazioni nell'accesso a un miglior utilizzo dei fondi a disposizione per la piena realizzazione dei progetti della crescita digitale richiamati nel piano stesso dal punto di vista operativo quindi giusto per darvi due flash per quanto riguarda la costruzione della baseline dei costi si è appena conclusa la rilevazione della spesa ICT che ha visto coinvolte circa 70 amministrazioni e che oltre a le amministrazioni centrali le regioni e le città metropolitane ha visto coinvolti anche i relativi comuni capoluogo quindi questa è già stata una prima estensione diciamo di questa parte per fare in modo che la fotografia che ne verrà fuori sia il più possibile completa di tutti i dati e le informazioni relativi alle scelte effettuate dalle singole amministrazioni sulla base delle indicazioni contenute nel piano tremale 2017 e 2019 un altro prezioso strumento permesso in campo ad Agit è il cruscotto per il monitoraggio nella crescita digitale che è accessibile a tutti dalla home page del sito Agit ed è lo potete trovare in alto a destra e si chiama avanzamento della trasformazione digitale e lì sono disponibili i dati l'elenco degli indicatori e tutti i data set con le analisi e un altro aspetto appunto dicevamo l'altro aspetto scandagliato da Agit è un supporto diretto alle pubbliche amministrazioni per i finanziamenti attraverso i fondi dei progetti del piano terrennale e uno degli strumenti in mezzo in campo di recente emanazione realizzazione è un accordo quadro tra conferenza delle regioni e le province autonome e Agit proprio per la realizzazione degli obiettivi di crescita e cittadinanza digitale questo è un accordo quadro che è disponibile anche questo sul sito Agit alla home page e appena finito l'intervento posso inserire il link al quale stanno già seguendo degli accordi la sottoscrizione di accordi territoriali tra Agit e amministrazioni prevalentemente regioni che in questo caso vengono individuate come veramente il soggetto aggregatore a livello territoriale per promuovere la crescita digitale e la realizzazione dei progetti del piano triennale ma che comunque possono vedere coinvolti anche altri attori del territorio questo appunto in estrema sintesi quali sono poi nel dettaglio di fatto operativamente quali sono gli strumenti diciamo definiti in una logica di asset calabili sui territori che Agit sta realizzando da di fatto da due anni a questa parte vado veloce poi semmai possiamo dare tutte le informazioni i link che occorrono una serie di strumenti toolkit prevalentemente utili per il disegno la definizione dei servizi digitali e dei siti web sono disponibili oltre alle linee guida per il design dei siti web sono state create sul sito e sono aperte sul sito del piano triennale di cui appunto vi ha accennato Rosa Barrese prima due community una dedicata ai designer dei siti web è una community che supporta alle amministrazioni per quanto riguarda proprio la reale applicazione quindi di ciò che sono gli standard previsti da linee guida e una community di sviluppatori che sta ragionando in una logica ovviamente di creazione c'è anche un catalogo delle api delle interfacce di programmazione che possono aiutare il lavoro appunto di chi deve progettare dei servizi digitali tutto questo appunto ripeto è chiarito come contenuti di massima nel piano triennale 2017-2019 ed è disponibile nelle sezioni dedicate al piano triennale un altro elemento di grande importanza e che diciamo diventerà un po' il cuore della redazione del piano triennale 2018-2020 che è tuttora in corso che è adesso in corso è legato agli ecosistemi nel piano triennale 2017-2019 venivano indicati gli ecosistemi definiti in linea di massima gli ecosistemi digitali e adesso diciamo l'attività che sta realizzando Agid è quella di fornire delle linee guida e delle indicazioni tecniche e organizzative affinché gli ecosistemi riescano a diciamo essere costituiti ed essere operativi dicevo che questo sarà un po' il cuore insieme anche al nuovo modello di interoperabilità che Agid sta definendo della prossima edizione del piano triennale cioè in quel nuovo piano triennale verranno declinati puntualmente questi contenuti e verranno fornite quindi indicazioni puntuali alle amministrazioni per la piena operatività degli ecosistemi ecosistemi e tutto questo è già partito diciamo per alcuni ecosistemi considerati più maturi come l'ecosistema sanità dove è già in piedi un gruppo di lavoro ma ce ne sono anche altri che si stanno man mano creando e che sotto la guida e l'indirizzo di Agid si stanno costituendo da questo punto di vista l'ecosistema va visto come un insieme di regole di convenzioni di visioni per un'interoperabilità sia tecnologica ma anche soprattutto un'interoperabilità organizzativa funzionale tutto il discorso diciamo la parte centrale il toolkit per l'integrazione dei servizi locali con le piattaforme materiali e gli strumenti a supporto dell'adeguamento delle progettualità infrastrutturali è in buona parte in buona sostanza quello che vi ha descritto Rosa prima e anche qui diciamo Agid ha a disposizione una serie di strumenti operativi per venire incontro alle amministrazioni non ultimamente la possibilità di finanziare degli ambienti di test dove simulare l'accesso e l'integrazione alle piattaforme abilitanti e questo insomma è una cosa che penso possa essere utile per tutti vado velocissima perché vado a scorrere degli strumenti di sistema monitoraggio abbiamo detto sono in piedi anche la costruzione in realtà sono già disponibili alcune indicazioni e istruzioni per migliorare la promozione e il marketing dei servizi digitali sul territorio e non ultimo quello di cui ci occupiamo prevalentemente noi cioè tutto il lavoro e gli strumenti che abbiamo e che stiamo mettendo in campo per la redazione del piano triennale affinché si possa garantire una coerenza è una migliore lettura integrata di quello che è l'attività delle amministrazioni coinvolte appunto una logica di messa al sistema quindi di button up nella prossima edizione del piano triennale ma anche come supporto alle amministrazioni stesse per fornire loro una chiave di lettura di quello che è il processo in corso presso le singole amministrazioni della transizione la trasformazione al digitale tappe e adempimenti allora alcune alcuni adempimenti sono quelli richiamati all'interno del piano triennale che a sua volta richiama il CAD o altre norme diciamo che appunto abbiamo già detto l'attuale piano triennale è quello della fase di costruzione quindi non mi soffermo ulteriormente diciamo quindi tutto quello che è scritto lì di essere inteso come il T0 in questo momento altra premessa importante rispetto anche per non spaventare insomma è che questi adempimenti contenuti nel piano triennale 2007-2019 sono prevalentemente adempimenti a carico di Agit o amministrazioni centrali ve lo dico con un numero delle circa 70 linee di azione previste nel piano triennale 48-50 sono quelle a carico di Agit e o di altre amministrazioni centrali quindi sicuramente questa fase di costruzione è più un supporto di Agit dalla partenza mentre per le amministrazioni sarà nei prossimi anni che si dovranno realizzare gli adempimenti la raccomandazione ovviamente è quella che le amministrazioni usino tutti gli strumenti che Agit mette a disposizione che quindi sono sia strumenti tecnologici quelli diciamo più classici che le amministrazioni Agit e mitodologici che in parte già conoscete come linee guida regole tecniche per vari settori a cui se ne stanno aggiungendo altri altro elemento abbastanza importante direi fondamentale è la partecipazione al censimento sul patrimonio AST per la sua razionalizzazione una prima edizione di questo censimento si è conclusa circa un mese fa una seconda sta per partire saranno chiamate un altro panel di amministrazioni a partecipare e sicuramente diciamo questa attività come insomma potete immaginare è estremamente importante estremamente importante perché diciamo a cascata produce degli effetti su tutta diciamo l'implementazione della strategia digitale altro elemento importante da tenere presente nella propria programmazione quindi nella propria progettazione dei piani trennali è sono gli adeguamenti insomma la possibilità di adeguare la propria capacità di connettività perché diciamo anche questo è come dire fondamentale per poi poter sviluppare esporre servizi digitali ed è anche importante nella logica di razionalizzazione delle infrastrutture che si sta portando avanti altra raccomandazione e adempimento contenuto nel piano trennale è l'aggiornamento dei propri dati su IPA in particolare indicazione dell'ufficio del responsabile della transizione al digitale e questi sono dati che diventeranno sempre più fondamentali e quindi è importante che le amministrazioni si adoperino per mantenerli aggiornati per quanto riguarda le piattaforme abilitanti ovviamente completare l'implementazione di speed su tutti i propri servizi digitali e adeguarsi adeguarsi al pago PA come canale unico per i pagamenti e questo forse avremmo dovuto dirlo prima ovviamente nominare il proprio responsabile il proprio responsabile per la transizione al digitale adeguarsi alle regole tecniche di sicurezza e CT emanate da Agit e non solo quelle strettamente diciamo non solo le linee guida cosiddette regole tecniche minime ma anche a quelle che sono state appena emanate che sono le linee guida per lo sviluppo di un software sicuro e che sono sempre disponibili sul sito di Agit nonché partecipare alle attività del del CERT del CERT PA che come sapete è diciamo un pronto intervento per le emergenze in campo di sicurezza che è appunto il sito d'Agit e che necessita però di essere in stretta o collegamento con i nodi sul territorio usare gli strumenti consi e i prod centrali di acquisto questo perché sono strumenti che sono stati in parte pensati creati in parallelo con la strategia di sviluppo previsto da Agit e quindi sono quelli attraverso il quale si può per esempio migrare verso il cloud adeguarsi dal punto di vista della connettività e ve lo dico insomma anche in linea generale per quanto riguarda gli obiettivi di rispetto degli obiettivi di spending review vi ricordo che tutta la spesa che transita su centrali di acquisto o strumenti consi soprattutto se parliamo di spesa di funzionamento spesa operativa e diciamo è fuori da eventuali possibili tagli e in ultimo partecipare a iniziative di formazione e sensibilizzazione come questa e perché diciamo diventa un momento fondamentale anche per noi per raccogliere informazioni e input utili velocemente giuro tre secondi questo è come appare il sito che più volte vi abbiamo richiamato il sito del piano trennale che è raggiungibile direttamente dall'home page del sito Agid vedete in alto a destra le sezioni di cui vi parlavo le comunità quella dei sviluppatori designer il forum dove è possibile diciamo intervenire direttamente su i temi non solo del piano trennale ma che guardano generare la trasformazione virale io finirei qui a questo punto grazie Federica perché abbiamo sperato un po' i temi però nel frattempo hai risposto credo a diverse domande che hanno fatto i partecipanti provo a riassumerle molto rapidamente quindi magari poi aggiungete qualcosa una domanda che mi sembra comunque abbastanza generale che quella di Luca Dainese come attori del piano trennale sono indicate anche le pubbliche amministrazioni locali sono solo le regioni e le città metropolitane e tutti gli altri comuni medie piccole e province italiane che fanno si rivolgono alla regione e questo poi si collega anche alla redazione del piano trennale dentro queste amministrazioni quando deve essere fatto devono fare le responsabili della transizione e preliminare la nomina delle responsabili della transizione e c'è un po' questi aspetti che riguardano alle scadente anticipo che il prossimo webinar che faremo con Ernesto Belisario sarà proprio basato su tutte le scadenze che in qualche modo riguardano i soggetti interessati dal piano frennale e dal caso quindi con una lettura integrata delle due cose quindi richiederei magari di rispondere soprattutto a quelli che sono gli aspetti che coinvolgono di più agide brevemente proprio due minuti prima di dare la parola a Pellegrino e Iacono sì sì vado in estrema sintesi sì mi risponderò per quanto riguarda come dicevo il coinvolgimento a livello locale la logica del piano è quella di individuare dei soggetti aggregatori e questi soggetti aggregatori sono stati individuati nelle regioni e nelle città metropolitane e per completare il quadro informativo sui dati della spesa sono stati coinvolti anche i comuni in tavolo luogo relativi alle città metropolitane mentre per quanto riguarda gli altri comuni medio piccoli diciamo diventa il punto di aggregazione in questo momento è la regione è il punto che fa da riferimento e di aggregazione per tutti gli adempimenti del piano per tutti gli adempimenti per quegli adempimenti del piano triennale che non fanno direttamente riferimento a altre amministrazioni locali la nomina se ricordo bene l'altra domanda era sul responsabile alla transizione diciamo è diciamo è uno degli adempimenti previsti dal piano triennale e chiaramente qual è la logica sottostante che come è già successo per la realizzazione della rilevazione della spesa di quest'anno scusate non mi sono aggregata con il video per la rilevazione sono stati diciamo laddove presenti sono stati direttamente coinvolti proprio loro cioè i responsabili nella transizione sono stati i nostri interlocutori unici diciamo per la raccolta dei dati e delle informazioni sul proprio territorio quindi diciamo siamo andati ovviamente avanti stiamo andando avanti nell'interazione anche laddove il responsabile non è ancora stato nominato però insomma sarebbe opportuno che le amministrazioni completassero le situazioni di questo ufficio il prima possibile non so se c'è qualcos'altro grazie ma magari ecco qualche risposta si potrebbe aggiungere anche alla fine e immagino anche che dall'esperienza della regione Sardegna e di Roma capitale ci sia qualche elemento aggiuntivo chiederei già ad Antonello di attivare la webcam non gli rubo altro tempo perché siamo dietro 5 minuti ma credo che li possiamo recuperare in chiusura non finiamo alle 13.30 alle 13.35 anche perché mi sembra che i temi siano abbastanza interessanti e quindi sfruttiamo la disponibilità dei nostri relatori prego Antonello grazie Salvatore ben trovate ben trovati tutti parliamo fra colleghi naturalmente quindi i temi di cui parlerò nello spazio all'interno di questo seminario sono temi tutto sommato ben noti a tutti noi non riprenderò i concetti già esposti dalle colleghe dell'Agid ma cercherò di parlarne dal punto di vista di una regione che come detto ha un ruolo di soggetto aggregatore naturale al di là del fatto che poi vada formalizzato con l'eventuale evoluzione nell'ambito dei poli strategici nazionali che sono un altro tema però parallelo e di evoluzione anche organizzativa rispetto a quello di cui parliamo oggi questa slide la propongo non solo e non tanto per esibire dei titoli ma perché a ognuna di queste caratteristiche di queste qualifiche è legata una opportunità di poter sviluppare una azione a livello regionale che non riguardi solamente la regione in questo caso la regione Sardegna come entità amministrativa ma che si apra secondo modalità innovative intanto il fatto che io svolga un ruolo da direttore generale non è secondario perché essendo dirigente di prima fascia mi occupo di agenda digitale ma anche di altre cose comunque questo mi dà la possibilità di avere immediatamente una facoltà organizzativa che ho sfruttato come vedremo più avanti abbiamo infatti dei margini di autonomia a livello degli enti locali in particolare delle regioni ma anche a livello di comuni in certi casi che vanno sfruttati indubbiamente per poterci muovere lungo un percorso che non è assolutamente agevole e non è semplice il fatto che nel 2015 questa direzione generale e quindi chi vi parla abbiamo avuto l'incarico di coordinamento tecnico dell'agenda digitale della Sardegna quindi diciamo grosso modo tre anni fa ha favorito la creazione di un punto unico di presidio della coerenza tecnologica e non solo quindi anche con certi risvolti di natura organizzativa unitaria all'interno della regione Sardegna con il riferimento tecnico unitario nei confronti delle autorità di gestione dei vari fondi che afferiscono allo sviluppo dell'agenda digitale su quest'ambito circa un anno fa si è innestato l'incarico che è sempre stato dato a questa direzione generale che quindi svolgò io di responsabile della transizione al digitale cioè sto parlando del famigerato articolo 17 del CAD di cui ho appena rilanciato il link è un ruolo fondamentale condivido quanto è stato già anticipato quindi la posizione di Agide è fondamentale è un ruolo che lascia diciamo molte responsabilità a livello di chi lo lo svolge nel territorio però apre anche ampi margini di autonomia per avere una visione terza su cosa ci si attende perlomeno su cosa il Parlamento nella scorsa legislatura si attendeva da questo ruolo ricordo quanto Salvatore Marras ha già richiamato all'inizio di questo nostro incontro gli incontri che si sono svolti con la commissione sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione quella coordinata dall'onorevole Coppola diciamo che quello è un territorio di confronto con il legislatore importante anche per capire effettivamente quelle che sono le aspettative e quelli che sono anche i ruoli che possono essere esercitati a livello locale e non solamente a livello locale l'insieme di queste tre caratteristiche cioè il fatto di avere una unità organizzativa di prima fascia come direzione il fatto che questa svolga anche il ruolo di coordinamento tecnico dell'agenda digitale locale e della responsabilità della transizione al digitale sicuramente ha agevolato il dare un punto di vista non solamente passivo ma anche proattivo a quello che è il ruolo che il piano triannale per l'informatica lascia alle amministrazioni regionali e alle province autonome in particolare noi ci muoviamo come sanno i colleghi e i colleghi delle regioni e province autonome attraverso la rappresentanza politica della conferenza delle regioni e delle province autonome per il tramite di una commissione speciale agenda digitale all'interno della quale esprimiamo le nostre valutazioni e formuliamo anche delle proposte quindi non è solamente un organo di ricezione di informazioni corredate da spiegazioni da livello centrale ma va interpretato e lo stiamo interpretando in maniera bidirezionale formulando anche suggerimenti critiche naturalmente in modo costruttivo quando necessario le facciamo presenti in quell'ambito sicuramente però il piano triennale lascia un ampio spazio alle regioni regioni che godono di autonomia organizzativa in particolare le regioni e province autonome come quella da cui vi parlo però un po' tutte hanno la possibilità di interpretare a livello locale quello che è il modo di mettere in atto il piano triennale come leggevo da alcune osservazioni questo può generare una dispersione interpretativa e delle difficoltà ulteriori questo avviene ovunque chiaramente e per ridurre questo rischio qui da noi in Sardegna ci siamo messi il dubbio di andare a vedere se il modello strategico di evoluzione del sistema informativo dell'APA poteva esserci di un qualche ausilio non solo da un punto di vista dell'individuazione di ambiti e di nuclei tecnologici o tecnici per strutturare le nostre attività ma anche per rivedere la nostra organizzazione a livello locale in modo da avere una mappatura più rispondente a quello che è il modello strategico di evoluzione a livello nazionale in particolare notiamo che esiste sicuramente una grande importanza che bisogna riconoscere alle infrastrutture fisiche sia che vengano gestite direttamente da noi come data center sia che vi si acceda in modalità cloud come sempre più penso tutti stiamo riflettendo o stiamo già facendo a livello locale questa diciamo responsabilità come vedrete l'abbiamo affidata a un ufficio preciso con dei compiti precisi all'interno dei quali abbiamo sommato anche la parte di sicurezza fisica regione Sardegna è stata una delle prime amministrazioni che ha aderito al meccanismo del CERT PA e questo ci ha costretto in una certa misura un confronto con il livello nazionale che per noi è stato estremamente positivo perché c'è stata una crescita professionale da parte dei colleghi tecnici e amministrativi che se ne occupano e anche un sollevamento dei livelli di sicurezza almeno per ora poi come sappiamo tutti di sicurezza non è mai opportuno parlarne troppo sempre sul tema delle infrastrutture abbiamo individuato anche delle infrastrutture che sono parzialmente di responsabilità locale e parzialmente di responsabilità a livello di evoluzione e anche di gestione delle stesse a livello centrale su questo abbiamo costruito un vero e proprio ufficio il modello di interoperabilità e gli ecosistemi sono stati per noi degli elementi di riflessione per poter ancora una volta vedere se creare degli uffici che rispondano su questi temi e che abbiano diciamo lo scopo di intanto interagire più facilmente con i livelli centrali quindi innanzitutto con con Agid ma non solo con tutti gli organismi con i quali ci rapportiamo dall'agenzia per la coesione territoriale al dipartimento della funzione pubblica allo stesso Fornes e ad altre entità nazionali come ad esempio l'importante ruolo che si diceva prima della commissione speciale dell'agenda digitale questo tipo di riflessione ci ha consentito di individuare all'interno della nostra direzione generale che appunto è un'articolazione organizzativa dirigenziale di prima fascia individuare due entità organizzative dirigenziali di seconda fascia una denominata servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione all'interno del quale abbiamo declinato delle posizioni organizzative in due settori quindi uffici coordinati da un funzionario quindi non di livello dirigenziale uno mappato sulle infrastrutture digitali materiali e l'altro sulle infrastrutture digitali immateriali in maniera analoga abbiamo rivisto il nostro storico servizio dei sistemi informativi di base applicativi del sistema regione regione apro una parentesi per spiegare che in Sardegna il sistema regione è costituito dall'insieme della regione in senso stretto cioè presidenze e assessorati e di enti e agenzie quindi in questo tema si sta cercando di andare a una programmazione unitaria che riguardi non solo presidenze e assessorati ma che coinvolga nella pianificazione e nell'attuazione anche l'insieme delle 14 entità che in regione Sardegna rientrano nel concetto di sistema regione più allargato quindi enti e agenzie a titolo di esempio stiamo operando per il GDPR se ne sto occupando la mia direzione generale che non ha quindi la responsabilità di DPO o di responsabile per la protezione dei dati ovviamente essendo i due ruoli incompatibili come spiega bene il GDPR però ci occupiamo di predisporre tutto perché il DPO quando verrà nominato trovi il più possibile le carte in regola in quest'ottica stiamo operando congiuntamente a livello di sistema regione quindi non solo regione in senso stretto ma sentendoci allineandoci costantemente anche con colleghi e colleghi di enti e agenzie regionali tornando a servizio dei sistemi formativi anche in questo abbiamo individuato due articolazioni organizzative due settori come sono definiti dalla nostra legge regionale 31 uno che riguarda progettazione sviluppa e gestione degli ecosistemi digitali per il sistema regione come appena definito e un altro analogo che però si rivolge al sistema dell'APA regionale quindi a province comuni e anche a entità referenti a ministeri quindi organismi centrali che però operano sul nostro territorio abbiamo una serie di progetti e di attività ad esempio che svolgiamo assieme con i colleghi del mondo della giustizia digitale con cui lavoriamo a stretto contatto e non solo chiaramente quindi è stata per noi l'organizzazione la presenza del piano triennale ICT un'altra sfida nel senso che l'organizzazione stessa l'abbiamo ripensata per andare in armonia col piano triennale e per rivolgere non solo verso il livello centrale come dicevo prima ma anche verso il mondo delle nostre autonomie locali in primis province comuni e loro aggregazioni il cui coinvolgimento è fondamentale quindi unione dei comuni e residui comunità montane è fondamentale perché anche loro si trovino con in regione degli interlocutori che siano strutturati per lo sviluppo del piano triennale ICT questo tipo di organizzazione ci sta aiutando anche per il controllo della spesa corrente nel senso che dalle proiezioni che facciamo trimestralmente siamo sostanzialmente allineati col taglio del 50% come previsto dai comuni della vecchia finanziaria che vedono come diciamo necessario il taglio del 50% della spesa ICT rispetto al triennio di riferimento e quindi a partire dalla previsione di bilancio del 2019 quindi nell'ambito dell'annualità di esercizio 2016 2017 2018 abbiamo operato in modo da allinearci alla necessità di taglio del 50% della spesa corrente quindi per andare a concludere rapidamente la nostra esperienza che presentiamo alla riflessione comune è quella che il piano triennale ICT può diventare non solamente un riferimento tecnico o tecnologico ma anche un riferimento organizzativo e di supporto per il controllo della spesa questo era diciamo il contributo che come regione Sardegna dopo l'invito gradito del Formez ci sentiamo di presentare naturalmente sono qui per rispondere a domande nell'ambito di questo grazie Antonello Pellegrino per l'esperienza dal vivo di come dentro una regione viene affrontata questa complessità chiederei lasciare magari le domande sia alla regione Sardegna che a Roma alla fine chiederei di attivare la web Cannello Cannello Iacono sentiamo prego sì io cercherò di parlarvi un po' dell'esperienza come capoluogo di città metropolitana che appunto è ancora in uno stato come si vede un po' ibrido nel senso che in diverse normative si recita ancora che rispetto alla necessità di avere un rapporto immediato e stretto con la città metropolitana poi nella pratica in effetti è il capoluogo di città metropolitana che probabilmente ha anche gli asset delle possibilità maggiori per poter svolgere insieme alla città metropolitana il ruolo che appunto è necessario avere dal punto di vista del territorio quello di cui vi parlerò è l'esperienza quindi del capoluogo di città metropolitana che anche grazie ai PONMETRO sta cercando di essere punto di riferimento all'interno del territorio partendo dall'agenda digitale quindi vedendo il piano triennale come un risultato del diciamo così della strategia di approccio che abbiamo cercato di seguire in generale sul sul tema della trasformazione digitale e quindi sui servizi al cambiamento dei servizi ai cittadini l'agenda digitale di Roma capitale è nata l'anno scorso e è stata concepita come un documento che comunque anno dopo anno cerchiamo di avvicinare e aggiornare quindi rispetto a nuove esigenze ma anche alle indirizzi anche ai nuovi possibilità opportunità che vengono grazie al lavoro dell'agenzia per l'italia digitale del team digitale è un documento che appunto cerca di essere trasversale a tutta l'amministrazione di lasciare quindi progetti trasversali di innovazione come degli approfondimenti su cui poi si valutano anche le prestazioni dei dirigenti l'indirizzo per il piano triennale perché una parte poi in modo specifico viene calata sul piano triennale e soprattutto è intesa come un documento che ci serve come pianificazione e governo complessivo per cui è entrato a pieno diciamo così completamente all'interno del documento unico di programmazione quindi anche rispetto a tutto ciò che è programmazione e poi progettazione dell'attività amministrativa a cinque obiettivi strategici che poi si sono calati appunto nel documento unico di programmazione e negli obiettivi strategici abbiamo cercato di inserire tutto ciò che è effettivamente coerente con gli obiettivi di trasformazione digitale e quindi anche secondo noi tutto ciò che ha a che fare con l'open government e quindi quelle schede quelle azioni che abbiamo inserito nel piano nazionale per l'open government sono anche state inserite come delle azioni all'interno della nostra agenda digitale Roma Capitale proprio perché pensiamo che sia che quest'area di azione sia strettamente connessa con il tema della trasformazione digitale quindi anche con un utilizzo molto più diffuso e semplice di servizi digitali l'altro punto che abbiamo cercato di innestare nell'agenda digitale è stato quello relativo alla sperimentazione quindi far sì che Roma potesse essere considerato un laboratorio di innovazione e quindi di sperimentazione e questo significa aderire ovviamente alle sperimentazioni che sono lanciate anche a livello nazionale sia dall'agenzia per l'italia digitale sia dal team digitale e dall'altra parte lanciare comunque lì dove ci sono delle tecnologie di nuova generazione lanciare dei possibilità non solo agli operatori romani ma in generale agli operatori che vogliono che vogliono sperimentare la possibilità di farlo le aree di intervento che sono definite in modo tale appunto da permettere una misurabilità di obiettivi anche perché sono gli stessi indicatori gli stessi obiettivi che poi abbiamo portato sul documento unico di programmazione e quindi sul tech dei dirigenti sono quattro aree di intervento dicevo open government appunto perché qui innestiamo tutto il tema dell'amministrazione aperta quindi dalla accountability e all'open data al tema della partecipazione in generale il tema delle competenze digitali che secondo me non può essere scisso da un programma generale di trasformazione digitale come diceva anche prima Rosa Maria il tema della gestione del cambiamento e quindi anche delle competenze è un tema principale di base che si poi si articola sia rispetto alle esigenze dei cittadini perché possano veramente fruire dei cambiamenti anche della pubblica amministrazione perché ovviamente il tema del come cambia la pubblica amministrazione è completamente innestato nel tema del cambiamento di cultura servizi digitali e processi e poi ovviamente il tema delle infrastrutture e quindi per quello che appunto compete a un'amministrazione come quella romana quindi anche il tema delle infrastrutture quando abbiamo approvato l'agenda digitale ancora non era approvato il modello strategico quindi anche il disegno che abbiamo riportato nell'agenda digitale sarà aggiornato però il tema era esattamente questo cioè innestare le esigenze e anche i sistemi servizi le infrastrutture e i progetti necessari per la trasformazione digitale all'interno e quindi rendendolo coerente con il modello strategico di interoperabilità quello che abbiamo voluto mettere in evidenza è il fatto che questo modello di interoperabilità poi appunto potesse ampliarsi e allargarsi grazie al fatto che alcune attività sono come quelle appunto che permettono la partecipazione e la trasparenza sono completamente connesse quindi quello che abbiamo messo poi in scatolato è secondo me quello che potrebbe essere la casa digitale del cittadino su cui abbiamo innestato anche un progetto con metro proprio per dare la possibilità al cittadino poi di ritrovare effettivamente tutti i dati che lo interessano e lo stato avanzamento delle pratiche che lo interessano in più rispetto al modello di interoperabilità e quindi rispetto alla diciamo così alla visione di per ecosistemi abbiamo pensato di inserire un livello di infrastrutture immateriali amministrative nel senso che ci sono diversi sistemi che sono infrastrutturali e quindi completamente trasversali per gli ecosistemi che secondo noi costituiscono un livello dell'amministrazione ma da poter con attenzione insieme ai sistemi infrastrutturali ovviamente quello del sistema informativo territoriale è sicuramente una delle infrastrutture che ha questo ruolo e quindi mantenendo il modello abbiamo cercato di costruirlo anche rispetto ai progetti che erano in corso o che appunto via via abbiamo iniziato a strutturare pensando di mettere come zoccolo di tutto questo appunto il tema delle competenze digitali ma in tutte le sfaccettature che questo su cui questo poi si sviluppa dal punto di vista del piano triennale quindi il piano triennale discende in qualche modo dal modello che già era stato pensato per l'agenda digitale andando a precisare progetti specifici di Roma Capitale appunto soprattutto su quello che riguardano le infrastrutture amministrative ma anche il coordinamento con con i progetti nazionali e quindi ovviamente con l'adesione o la migrazione rispetto alle piattaforme abilitanti un altro elemento che in qualche modo è collegato ovviamente al piano triennale è anche il tentativo di far sì che l'utilizzo degli strumenti consite con un'articolazione abbastanza diciamo così adeguata anche rispetto al cambiamento che volevamo produrre potesse essere effettuata utilizzando i vari strumenti consite sapendo che ovviamente anche sul fronte ai consite probabilmente ci sono dei miglioramenti da fare anche per riuscire a utilizzarlo come strumenti per l'abilitazione delle energie che ci sono sul territorio anche pensando a piccole realtà piccole aziende a start up però in questo momento è stato sicuramente utile per far sì che appunto grandi grandi gare potessero essere riarticolate e ristrutturate anche facilitando l'uscita dall'occhino l'altro l'ultimo punto è che contiene viene contenuto nel piano triennale tutta la parte di reingegnerizzazione processi razionalizzazione dei sistemi dei database e anche in coerenza con le sperimentazioni che in qualche modo stiamo iniziando ad avviare proprio con il DAF su speed leggo alcune domande che scorrono su speed siamo pienamente allineati e migrati tanto avremo una slide in particolare su questo per cui il sistema di autenticazione è già incorpora già speed per tutti i servizi di Roma Capitale su pago pià c'è stata l'adesione su NPR è stato formato adesso un gruppo di lavoro tecnico insieme al ministero dell'interno e quindi ovviamente con l'agenzia per i visitati che permetterà di definire a breve le attività per il sudentro così come tra le piattaforme abilitanti non ho messo la carta di identità elettronica anche lì il comune Roma Capitale ha già l'utilizzo della CIE e andremo sempre di più all'integrazione anche con gli strumenti di supporto come l'agenda CIE per le prenotazioni vi faccio una breve carrellata dei risultati che attengono a quel disegnino che abbiamo visto il nuovo portale istituzionale che è andato online dal 7 febbraio e segue le linee guida per il design di Agid e quindi abbiamo avuto anche un'interlocuzione proprio per vedere come alcune esigenze specifiche potevano essere trattate però sicuramente l'aver seguito le linee guida ci ha permesso di arrivare ad una ristrutturazione completa dell'approccio dei contenuti e quindi anche del modo con cui le strutture si sono poste rispetto alla comunicazione nel portale sulla partecipazione sono state fatte più attività dal punto di vista trasparenza open data accountability stiamo andando avanti soprattutto su fronte open data stiamo cercando di utilizzare il meglio e riuscire al meglio le esperienze più vicine come quelle della regione Lazio per cui siamo andati all'arriuso del portale open data della regione Lazio e abbiamo iniziato a creare una struttura interdipartimentale proprio seguendo anche l'esperienza loro e andiamo alla sperimentazione insieme a FinDigitalia Dati dell'utilizzo del Data Analytics Framework Sistema pubblico di identità digitale abbiamo già detto e cercheremo di andare a una forzatura in modo tale da non avere più nuove identità rilasciate direttamente a Roma Capitale ma le nuove identità falle transitare tutte tramite sfide anche grazie al fatto appunto dell'uscita delle nuove circolari che questo permettono anche in misura più efficace andiamo al prossimo rilascio del nuovo sistema unico di segnalazione abbiamo svolto un'attività di impulso rispetto al software libero e abbiamo creato una rete interna di referenti sul software libero e più che altro stiamo cercando via via nei diversi contratti di porre il tema del ma è proprio necessario il software proprietario come uno dei temi principali proprio perché pensiamo che sia questo uno dei temi che la pubblica amministrazione deve sicuramente sviluppare con con maggiore impulso e diciamo che il piano triennale dovrebbe anche riuscire a veicolare meglio questo messaggio servizi digitali abbiamo detto che ce ne sono diversi in piedi e sono lì dove ci sono le piattaforme abilitanti nazionali sono indirizzate in quel verso lì altrimenti appunto c'è più che altro un tentativo di armonizzazione proprio per riuscire a possi grazie anche ai progetti che sono già sul pommetro come soggetto che permette di dare servizi anche ai piccoli comuni carte identità elettronica abbiamo detto anche sul tema connettività ci sono delle iniziative sia a livello nazionale che europeo su cui si va a una federazione molto spinta e come esempio di laboratorio diciamo così di sperimentazione c'è quello che stiamo facendo rispetto al 5G dove c'è la possibilità appunto di sperimentare anche nuovi servizi e tra poco uscirà una manifestazione di interesse proprio per chi vuole farlo molto brevemente pensiamo che il tema della trasformazione digitale debba essere supportata sul fronte della cultura digitale sia per i cittadini e su quello c'è l'iniziativa dei punti Roma Facile che è stata diciamo così mutuata dall'esperienza dell'Emilia Romagna e della Toscana e il forum dell'innovazione che è una sorta di consulta permanente su vari temi dell'innovazione con i cittadini e dall'altra parte stiamo avviando la comunità degli innovatori del personale capitolino proprio perché a parte la formazione pensiamo che trasversalmente sia necessario dare un impulso da questo punto di vista non mi soffermo sul modello che abbiamo seguito però il tema delle competenze digitali è uno dei temi secondo noi principali è stata la prima delibera di agosto 2016 e pensiamo che sia appunto lì che effettivamente si vince o si perde rispetto alla crescita digitale della trasformazione digitale del paese l'ultimissimo punto è rispetto al fatto che tutto questo di cui stiamo parlando e come sottolineava anche Antonio Pellegrino ha a che fare poi con come cambia la macchina amministrativa che questi progetti deve portare avanti e quello che stiamo cercando di fare è di armonizzare metodi di lavoro in ottica di project management e fare in modo che sia l'organizzazione che il sistema di programmazione di obiettivi sia coerente e quindi per questo il tema del riuscire a armonizzarlo con il documento unico di programmazione con il PEG e poi con tutti i progetti trasversali secondo noi è una delle sfide più importanti e principali scusate ho visto che ho sforato un pochettino grazie 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 Nello Iacono perché ci avete fatto vedere una pubblica amministrazione digitale che funziona quindi anche un segno di ottimismo rispetto ai lenti cambiamenti della pubblica amministrazione italiana mi sembra quasi di poter riflettere che il piano triennale ha in qualche modo innescato questi cambiamenti sia di tipo tecnologico dei servizi ma anche organizzativo siamo fuori in tempo però lascerei ancora magari qualche breve interventi sia a Maria Rosa Barrese che Antonello Pellegrino che Nello Iacono per concludere rispetto a una domanda che riguardava le competenze digitali giustamente Iacono ha detto che l'amministrazione stessa di Roma Città Capitale si è fatta carico dello sviluppo delle competenze digitali dei propri dipendenti considerandolo un elemento strategico segnalo che da questo punto di vista da un lato per le competenze specialistiche c'è Agile che ha il presidio su tutte le nuove figure diciamo che hanno più una specificità verticale mentre il dipartimento della funzione pubblica per quelle che sono le competenze digitali di base dei dipendenti pubblici ha definito affidandolo ad AICA l'associazione italiana di calcolo automatico il compito di disegnare un sillabus cioè un quadro generale delle competenze e metterà a disposizione un sistema di assessment cioè un sistema di autovalutazione che quindi consentirà a ciascun dipendente pubblico di confrontarsi con questo quadro delle competenze e valutare i suoi punti di forza e di debolezza questo potrà essere anche utilizzato dalle stesse amministrazioni per definire individuare delle attività di formazione interna o comunque aprirà degli spazi per un'offerta di formazione più ampia e più generale Maria Rosa vuoi intervenire per aggiungere qualcosa in conclusione io intanto ringrazio tutti i relatori e direi di andare con questi ultimi interventi in chiusura magari attivate la webcam anche Antonello e Nello quindi facciamo la foto di gruppo finale Rosa prego il microfono rosa scusami scusatemi forse non l'avete sentito vi volevo ringraziare uno due volevo dire usateci perché noi siamo al vostro servizio e due vi do anche un indirizzo che vi aveva già dato Federica che è redazione piano triennale chiocciolagid .gov.it noi siamo appunto siamo lì per rispondere per dare chiarimenti informazioni documentazione e così via grazie a presto se volete dire qualcosa anche dopo aver sentito le vostre reciproche esperienze si aggiungo aggiungo qualcosa anch'io intanto un ulteriore elemento di ottimismo per il fatto che quando esiste una volontà non solo politica che è essenziale e ineludibile ma anche da parte delle strutture amministrative e di quelle tecniche lo switch off cosiddetto cioè il passaggio subitaneo integrale e irreversibile alle procedure digitali si può fare a noi ci siamo riusciti recentemente con due procedure particolari una riguarda le attività di giunta regionale che sono integralmente digitalizzate l'altro riguarda le procedure degli atti di impegno e di spesa dirigenziali con valenza contabile per cui abbiamo un flusso interamente privo di carta quindi paperless come si osa dire per la generazione delle determine elettroniche contabili ci siamo riusciti e senza particolari problemi onestamente devo dire però ciò è stato fatto con dei presupposti intanto con un accompagnamento delle strutture che poi devono utilizzare le procedure che nasceva già a livello di progettazione delle stesse quindi con un coinvolgimento progettuale dei cosiddetti stakeholder inoltre con un accompagnamento che con l'occasione di introdurre alla procedura ha anche sollevato le competenze digitali generali delle persone quindi non abbiamo fatto degli interventi mirati alle competenze digitali funzionalmente a queste due procedure in particolare ma ce ne sono anche altre ma ne abbiamo approfittato anche per rinfrescare o dare diciamo maggiore confidenza a livello ICT in generale e poi terzo le procedure sono state varate con un momento di affiancamento rispetto alle procedure preesistenti però poi una volta che si è deciso di abbandonare le vecchie e di passare integralmente alle nuove è stato fatto senza ripensamenti però con alcune precauzioni devo dire che la cosa si può fare va studiato caso per caso va astratta una metodologia da ognuna di queste che è quello che stiamo facendo e su questo devo dire che tutto sommato ci sono dei motivi di ottimismo detto questo ringrazio voi colleghe e colleghi per l'invito e per la partecipazione anche rivolto il ringraziamento a chi sta dall'altra parte che ci ha stimolato con delle domande delle osservazioni anche qualche correttissima provocazione grazie a tutti ultima parola grazie visto delle domande rispondo molto brevemente alle domande che sono in generale sul fatto se ci stiamo muovendo sulle competenze digitali e poi anche il tema del come fare sì che queste competenze siano effettivamente utili diciamo così per il cambiamento dell'amministrazione noi siamo partiti con un'attività di valutazione delle competenze digitali tutti dipendenti con dei campioni abbastanza rilevanti e su quello iniziamo a innestare anche un'attività di formazione siamo partiti con un in assenza appunto ancora del questionario della funzione pubblica siamo partiti comunque da modelli lo digicomp che è quello che in questo momento più utilizzato a livello europeo e abbiamo iniziato ad innestare anche qualcosa di relativo al project management anche a una sorta di presenza più attiva che pensiamo di sviluppare appunto con la comunità degli innovatori la comunità degli innovatori pensiamo che appunto proprio per l'abilitazione che può dare alla proattività e la possibilità di partecipare anche all'identificazione di nuove proposte di nuovi cambiamenti pensiamo che possa essere uno strumento molto valido ovviamente supportato anche da attività di formazione anch'io credo che il switch off sia il modo con cui effettivamente possano essere portati avanti i cambiamenti con una certa rapidità e all'interno stiamo cercando di farlo appunto anche forzando rispetto all'elettronico e quindi lasciando per quanto possibile da parte la carta però il primo tentativo diciamo il primo obiettivo che ci siamo posti oltre quello è stato quello di cercare di fare una battaglia ferrea ai silos e diciamo che il nuovo portale istituzionale più che altro è il risultato di una diciamo sì un primo successo di questa battaglia perché appunto per con un grande smarrimento dei vari dipartimenti si sono trovati a dover concorrere a un risultato comune che prescindesse completamente dalla struttura di appartenenza e questa battaglia stiamo cercando di portarla avanti a livello appunto di formazione di comunità portando avanti lo sviluppo di diverse comunità interne proprio perché in questo modo iniziamo ad abilitare anche uno scambio e una ricchezza di comunicazione e di proposte che invece era abbastanza ingabbiata e sicuramente la vivacità degli ultimi anni sia dell'agenzia per l'Italia digitale che del team digitale ha favorito questo favorisce questo cambiamento e dà anche dei punti di riferimento importanti per l'evoluzione della trasformazione digitale dell'amministrazione grazie di questo bellissimo seminario grazie a te Nello grazie Antonello grazie Mara Rosa grazie Federica grazie a tutti quelli che ci hanno seguito abbiamo superato l'orario previsto di ben 15 minuti quindi meritiamo un pranzo quindi buon pranzo e buon lavoro a tutti alla prossima settimana grazie arrivederci